Con Giulio Cadeo parliamo di questo inizio di stagione della Fiorentina Basket, bentornato a Firenze prima di tutto che ti ha già visto protagonista ormai qualche anno fa. Ci parli un po' perché questa avventura 2.0 con la Fiorentina? Devo dire che quando ho avuto i colloqui con la Fiorentina Basket, in maniera particolare sia con il Presidente che con il General Manager, dove ci siamo trovati subito in grande sintonia, al di là di quello che poteva essere l'obiettivo della società, era proprio sotto gli aspetti, ha parlato di codice etico oggi il Presidente e di come si vuole vivere questa esperienza. Quindi questa è sicuramente stata una cosa che è valsa molto. Poi dopodiché c'è stato anche dietro un progetto, quindi non un risultato a breve ma una programmazione. Io credo molto in questo, credo molto in questa società e quindi non è stato poi difficile il passaggio alla firma. Ne è uscita Giulio una squadra interessante, secondo me, ne parlavamo quando hai messo la firma sul contratto e anche con i primi colpi, una squadra atipica. Mi dicevi che sarà interessante capire come gli altri potranno adattarsi al tipo di pallacanestro che hai in mente te, con un lungo vero e sostanzialmente basta, e poi tanti giocatori possono giocare tanti ruoli. Esatto. Oltre al fatto delle altre squadre che dovranno chiaramente giocare con una squadra che non incontreranno tutte le domeniche, ma la cosa più importante io credo che sia il nostro sistema di gioco che deve trovare affidabilità, continuità, perché è anche vero che noi non potremo giocare come una squadra normale, quindi come tutti i nostri ragazzi sono abituati a giocare in ruoli ben precisi e con un certo tipo di difesa. Quindi penso che passerà molto dalla nostra capacità di intraprendere questo percorso e di far proprio questa nostra progettualità tecnica. Siamo già in piena pre-season, domani andrete a Siena a giocare contro la Menzana, un'altra amichevole. Io ho dato un occhio al girone A, mi sembra che Omegna sia destinata a fare un campionato a parte, cioè che ha veramente investito per ritornare subito in A2. Poi però, chissà, ci può essere anche la Fiorentina dietro in quelle posizioni di play-off di alto lignaggio. Ma in effetti, come non pensare che Omegna abbia fatto una squadra molto forte, di categoria superiore per vincere questo campionato e ritornare dove era l'anno scorso. Quindi sicuro è la squadra favoritissima del nostro girone. Poi quello che hai detto è un po' quello che pensano un po' tutti, sia addetti al lavoro o proprio integrati nelle società che andremo a incontrare, ma anche gente che vede la palacanestra da fuori, guardando le squadre, guardando le società, dicono se, dico un nome a caso, Torino arriva secondo, arriva ultima, o Fiorentina arriva secondo, arriva ultima, non c'è niente di strano. Quindi ci sarà proprio da lottare dal secondo al sedicesimo posto. Obiettivo play-off, questo lo possiamo dire? Ma io penso di sì, nel senso che si possa dire, perché è giusto avere un obiettivo, è giusto avere delle ambizioni. Se fossimo qua senza nemmeno questa ambizione sarebbe un po' triste. Questo non vuol dire che le abbiamo già conquistate, appunto perché è un obiettivo, appunto perché abbiamo detto che è un campionato così equilibrato che dovremmo conquistarlo.